Rieccoci in diretta con Buongiorno Friuli, è il momento della rassegna sportiva. Allora, vediamo quali sono le notizie che riguardano le discipline sportive della nostra regione. E non solo, cominciamo con il calcio, cominciamo con l'Udinese e con il messaggero Veneto che apre con una bella intervista a Simone Scuffetto, intervistato nella sua Remanzacco, le mie mani sull'Udinese, nessun volo di fantasia e una promessa a Simone, darà tutto per il bianconero. Il momento più difficile è stato, ha detto la stagione al Como, ho fatto esperienza, sono cresciuto, ma per un gruppo retrocedere non è mai bello. E poi il rapporto con Del Neri è splendido, quando è arrivato è stato chiarissimo, credere nelle proprie potenzialità e amare la maglia. Come mi sono ripreso l'Udinese, dice nell'intervista realizzata da Antonio Simeoli, mi sono ripreso l'Udinese grazie al lavoro, a qualche batosta, all'ambizione di diventare il portiere della squadra, per cui tifo da bambino. Ora ci siamo, ma non mi monto la testa, mi hanno insegnato a faticare e lottare per raggiungere i sogni, l'ho imparato dai miei genitori e dai miei primi allenatori dell'Aurora, la squadra del paese, che è proprio il paese dove è stato intervistato da Antonio Simeoli. Una bella intervista ampia in cui racconta un po' sia la vita sul campo che fuori dal campo. E intanto durante l'intervista è stato preso d'assalto da bambini e ragazzi per un autografo e una foto, eccolo qua, mentre durante l'intervista viene circondato dai suoi compaesani. Intanto si parla di mercato, il Napoli rallenta, dice il messaggero Carnesis può finire al Watford, il nazionale greco lascerà comunque i colori bianconeri, Pozzo però non intende aspettare a lungo dell'Aurentis. Periz rischia di stare fuori un mese invece per colpa dei legamenti, in virtù dell'infortunio che ha rimediato nell'amichevole contro la Zeta Alcmar, perché c'è stato un trauma distorsivo che ha interessato anche i legamenti e quindi ci sarà un po' di difficoltà nel recupero che comunque non si prevede a lungo termine. Invece in Coppa Italia ci sarà l'esordio sabato sera alle 20.45, data e orario, sono stati ufficializzati ieri nel tardo pomeriggio, dopo che la società aveva provato a far posticipare il match di 24 ore per recuperare dalle fatiche della trasferta contro il Celta Vigo. Ma tutto comunque si svolgerà in giornata e poi sabato invece l'appuntamento con la Coppa Italia. Invece trattative di mercato, anche il Real Madrid rinuncia a Dybala, Zidane smonta lo scambio con Kovacic e 80-85 milioni alla Juventus. Quindi la gioia rimarrà ancora in bianco-nero. Andiamo avanti, andiamo a vedere quali sono le altre notizie di sport del messaggero. Caravelli fuori gioco sui 400 H nella notte del flop Semenia. Si parla ovviamente dei mondiali di Atletica, dove c'era la nostra friulana Marzia Caravelli, la pordenonese, in gara ha chiuso però in 56 e 92 troppo per la semifinale dei 400 ostacoli. Delusione, dice Alberto Bertolotto, perché questa probabilmente sarà l'ultima grande rassegna della carriera della pordenonese che invece si è fermata alle batterie. Semifinale invece per le altre azzurre, Folorunso e Pedroso. La sorpresa invece nei 5.500 è Kipiegon, dove la star sudafricana, Kaster Semenia, invece ha abdicato dopo che tutte le aspettative erano su di lei. Ma lo shock arriva dal tennis, dove Sara Errani ha rimediato due mesi di esclusione dalle competizioni. Doping involontario, dice lei, perché è stata trovata positiva una sostanza vietata dal codice antidoping della Vada, che sarebbe il letrozolo, uno stimolatore ormonale usato per trattare i carcinomi al seno. Andiamo a vedere anche le altre notizie del sport. Passiamo al ciclismo, quando Contador rifiutò il Crostis, il campione spagnolo ha annunciato il ritiro. La Vuelta sarà la sua ultima corsa. Ecco qua una foto dell'epoca. Contador, perché no te gusta il Crostis? E poi ancora le notizie in breve. Un notatore di 24 anni è morto mentre si stava allenando a Reggio Emilia. un lutto davvero per un ragazzo molto giovane, che si stava allenando per le universia di Rossi nei testi. Invece si riscatta e batte Marquez. Andiamo a vedere invece il Carnico. C'è Cavazzo Villa, ecco la super sfida più attesa dell'estate. A Prato Carnico domani la partita che vale una stagione. Sarà il primo atto del progetto di solidarietà per le Marche. Il punto sul campionato Carnico, capolista distanza di sicurezza. Audax e Verzenis in difficoltà invece. Andiamo a vedere ancora il ciclismo con Colledani. Caduta e secondo posto. Un episodio sfortunato per il ciclista che sta partecipando alla Coppa del Mondo di Cross Country. finisce contro le Rocce, perde oltre un minuto, ma in Coppa è comunque in grande spolvero. Sul circuito nord-americano Nadir era indicato tra i favoriti. E poi per l'Atletica un duello ad alta quota, quello fra Pivke e da Colle. Il Tarvisiano vince la Varmost Vertical battendo il Recorman 2016. 230 i partecipanti alla corsa in montagna organizzata sul Varmost. Questo è periodo di corse in salita e di corse in montagna. Tra l'altro sempre più sfidanti. Andiamo a vedere anche il gazzettino che apre con l'infortunio di Stipe Perizza. rischia un mese di stop il croato costretto a rinviare l'esordio ufficiale per l'infortunio rimediato sabato. Dopo gli esami di ieri il verdetto medico è una distorsione alla caviglia. I primi guai sono già presenti per Del Neri. Terono non è ancora in forma e quindi l'attacco è da ripensare. I candidati titolari probabilmente già da provare contro il Celta Vigo in Spagna saranno forse Lasagna e Baic. Una chance proprio per loro. L'accertamento strumentale non ha fatto sconti, dice Guido Gomirato che fa l'analisi sull'attacco dell'Udinese sui prossimi impegni in vista della Coppa Italia. Cirile sul mercato, dice il gazzettino Veneto. Questa è una novità e i problemi del reparto avanzato aprono nuove ipotesi e a questo punto Cirile Tero potrebbe essere sul mercato e spazio. Invece a Pavoletti, nonostante l'arrivo di Baic, centravanti chiamato a sostituire Duvan Zapata. Sabato sera, prima sfida di Coppa Italia con il Frosinone, lo dicevamo alle 20.45, un avversario alla sua portata a patto che non si prenda la gara sotto gamba. Andiamo a vedere anche la pagina relativa al Pordenone con i nero-verdi. Dietro il Lecce c'è Tedino. Nella Team Cup la sfida Cagliari-Palermo designerà la possibile avversaria. Colucci dice, è un'ottima partita e grande lavoro per 97 minuti. Dopo la Coppa vinta ai danni dell'Unione Venezia, sabato invece arriveranno i Salentini. Il presidente Loviso esulta. Complimenti al nuovo mister e allo staff. Molto contento il presidente del Pordenone che quest'anno ha cambiato abbastanza. Il metronomo sardo si è rivelato subito decisivo. Burrai dice, siamo competitivi. Se ne sono andati in tanti, ma i protagonisti del Dream Team della passata stagione, anche vari centrocampisti, Burrai, però ha ciccato il primo rigore della nuova stagione. ha detto che è stato disorientato dal portiere, ma ha dato una parere positivo riguardo alla prima gara. Andiamo a vedere anche i mondiali, con quattro decimi fatali a Marzia Caravelli, ostacoli stregati a Londra, l'analisi di Rover, Ezio Rover, presidente della FIDAL. Le società hanno scelto insieme la strada migliore, il movimento provinciale, esegue i suoi paladini agli ridati e intanto investe sul futuro. Ostacoli stregati, però, per Marzia Caravelli, che abbiamo visto essere stata esclusa dalle semifinali, dalle finali della sua gara, è purtroppo uscita in batteria. Parliamo anche di basket. Il sistema rosa cambia a girone in A2, sempre per il basket femminile, Tris di Amichevoli della Georgia Tech, per il sonco le compagne americane al pala Crisafulli. Andiamo anche in taglio alto, l'Azzurra Martini, si parla di sci alpinismo Under 23, festeggia con lo zaino Mara Martini, grazie a un'ottima stagione tra le riunioni ore, Saproda, nella squadra nazionale di sci alpinismo, è stata inserita appunto nel gruppo azzurro Under 23. A questo punto direi di vedere un servizio relativo all'Udinese, il punto sulla squadra, sulla situazione della squadra bianconera, in vista proprio dei due impegni che aspettano la formazione questa settimana. Dopo un percorso senza sbavature è arrivata la prima sconfitta per l'Udinese nel precampionato 2017-2018, ma le sensazioni sono contrastanti, perché è tanto il dispiacere di averlo fatto di fronte al pubblico amico, che ha sfidato le temperature equatoriali di sabato sera, ma è anche tanta la convinzione lasciata dalle buone giocate dei bianconeri che di contro non sono stati in grado di concretizzare l'incredibile mole di occasioni avute. Nel secondo tempo, in particolare, Bizzotte, estremo difensore della Zeta, è salito in cattedra, sfogliando miracoli fino all'ultimo secondo di gioco, solo Perizza con un penalty a scalfito la difesa olandese. La mira va ovviamente aggiustata, in vista della prossima amichevole di Vigo e soprattutto nella gara di Coppa Italia contro il Frosinone, che ha battuto il Pisa 1-0 con gol di Daniel Ciofani, regalandosi la possibilità di disputare la sfida della Dacia Arena. L'ultimo precedente parla Friulano, con l'1-0 confezionato dall'ex Francesco Lodi, ora le storie sono davvero diverse, ma si sa che le gare di agosto di Coppa Italia sono pericolose e lo Spezia ce lo insegna. L'anno scorso l'udinese scivolò sulla classica buccia di banana, ma ora non vuole ripetere l'errore, preparando al meglio una gara insidiosa, ma da vincere per affiancare un buon risultato a un'ottima prestazione come accaduto contro la Zeta di Arkmar. La posta è in pario, questa volta è alta e l'udinese non può sbagliare. Questa è ora la situazione dell'udinese, secondo il nostro Stefano Giovampietro, allora andiamo a vedere anche la pagina del messaggero veneto di Pordenone, funziona l'effetto Venezia, lo visa dice un risultato storico, partita bene anche la vendita degli abbonamenti, dopo la vittoria del Penzo, il presidente esulta, prima volta così avanti in Coppa tifosi. A questo punto sosteneteci la rivincita di Colucci su Pippo Inzaghi, la scorsa stagione era stato esonerato il tecnico dalla Reggiana, proprio dopo aver perso al Giglio col Venezia dell'ex bomber del Milan, quindi doppia soddisfazione per lui. Poi adesso arriva il Lecce, il Big della C, in arrivo anche i tifosi del Lecce, dovrebbero essere diverse centinaia. Per la Serie D verso un girone di grandi nomi, domani, tamai, domani con lo Peter Gina. Andiamo a vedere anche gli altri sport della destra tagliamento, in C-Silver ecco il girone di Vis 3S, Spilimberghesi, team d'alta quota, poi per il nuovo record regionale dei ragazzi, per la 4% SL della Gymnasium, e poi per i motori, Bagaggini, primo del gruppo TM nel tricolore di Cross Country. A questo punto abbiamo finito l'analisi degli sport della nostra provincia, della provincia di Udine e Pordenone, andiamo a dare un'occhiata anche alla Triestina, insieme al Piccolo, il bilancio dopo meno di un mese di preparazione dell'Unione, che ha giocato contro il Pescara, la squadra si vede e quindi sembra che appunto la squadra sappia già stare in campo e l'attacco sia presente, sappiamo appunto che la Triestina giocherà anche contro squadre che ci sono più vicine. Andiamo a vedere anche le prime pagine delle testate nazionali, cominciamo con la gazzetta che oggi apre con una foto di Luciano Spalletti, l'uomo dei sogni, così Spalletti ha riacceso l'Inter per tutti e il miglior acquisto dei nerazzurri, organizzazione e fatiche e risultati, perché nella squadra e nei tifosi sta crescendo l'entusiasmo, anche se permane qualche dubbio in merito alla squadra e agli acquisti, intanto arriva un nuovo giocatore, arriva dalla Francia ad Alberti a Milano, è appunto una mossa per rinforzare la Rosa, ora si punta a Scicchi, il terzino dovrebbe firmare, Emre Morra sarebbe ai dettagli, sprint sul cieco, si segue anche Pezzella, ovviamente si parla del Betis. Andiamo a vedere anche la Spallagol, rivincita Iguaine Juve, uno show lungo un anno, il 7 agosto la prima delle pipite in bianco-nero, con la Lazio va a caccia di un'altra rete pesante. Giorginio parla in un'intervista a Bel Napoli, sei più vicino alla vetta, noi e la Roma abbiamo accorciato le distanze dalla Juve e non capisco certe scelte di ventura. Il nuovo Milan, a Navarra il 3-5-2, a rischio Caglianoglu, se Montella cambierà il modulo, Largo ha conti a Rodrui, a Rodriguez invece Bonucci e Biglia, sono nella lista UEFA. In taglio alto, lo shock per l'esclusione di Sara Errani, un farmaco della mamma avrebbe contaminato il cibo, positiva al doping, due mesi di stop, la difesa dice era nei tortellini. Andiamo a vedere anche in taglio basso, addio dall'aglio, la sua morte è un mistero, si parla del nuotatore di 24 anni, già promessa del nuoto, era da solo in una palestra a Modena, poi la decisione di Contador, dopo la vuelta mi ritiro, i mondiali di atletica, Tortu conquista la finale dei 200, 1.500 alla Kipiegone, Semenia di bronzo. Questa sera invece in TV, su Canale 5, United su Bale, Mus, Fidel, Real sul mercato e in Supercoppa. Andiamo a vedere anche le altre due prime pagine dei giornali, il Corriere dello Sport con il mercato record, su un import all'Inter e là, sugli schermi cinesi, a tre settimane dalla chiusura, investiti 3.084 milioni, nei cinque campionati top d'Europa, battuto ogni primato, in testa la Premier al secondo, la nostra Serie A, che corre verso il muro del miliardo. Andiamo a vedere anche in taglio alto, due interviste, quelle di Conti a Giorginio, Conti dice, Orgoglio Milan, voglio diventare il tuo Dani Alves, puntiamo a riportare questo club, ai vertici e poi si parla ancora di Supercoppa, meno cinque giornate all'incontro, già Juve Lazio, trappola, lei va per Di Bala. Adesso abbiamo al telefono i vigili, per sapere qual è la situazione del traffico, e della viabilità in giornata. Buongiorno. Buongiorno. Sì, la situazione al momento è abbastanza regolare. Abbiamo avuto un piccolo problema in via Marsala. Prima una corriere era rimasta incastrata sotto il cavalcavia ferroviario e al momento adesso è stata liberata e c'è solo qualche rallentamento per chi percorre via Marsala verso il centro città. Comunque contiamo a breve di risolvere la situazione. Poi volevo segnalare solo un paio di chiusure abbastanza importanti. Via Martignaco è chiusa da Piazzale Diacono fino alla rotatoria di Via Pieri per i lavori del teleriscaldamento e sempre via Chiusa Forte, l'inzona ospedale, quindi un'altra zona abbastanza che è chiusa per i lavori dell'acquedotto. Quindi sono queste due chiusure abbastanza importanti. Qualche rallentamento e qualche disagio sicuramente ci sarà in queste zone. Per il resto comunque tutto a posto. Insomma, ci sono ulteriori problemi. Grazie, allora Cristiano Beretta. Buon lavoro a lei e alla municipale quest'oggi. Noi invece finiamo di vedere le prime pagine delle testate nazionali. Chiudiamo con tutto sport. Si parla di Strotman, la Juve ci prova. L'olandese della Roma è l'ultima idea di Marotta per il centrocampo. La trattativa è possibile, ma non la clausola. Spinazzola chiede invece di essere liberato dall'Atalanta e poi al Toro potrebbe passare addirittura Rincon, un accordo con la Juve. L'accordo vicino sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Ieri ripresa alla fila. Applausi per Unculù. E poi Serie A, Fiorentina, ansia per Chiesa, se non rinnova lo perderà. La Supercoppa con Murigno alla resa dei conti reale. E poi le tennis Errani, dopata involontaria, squalificata per due mesi. E con questo noi abbiamo concluso la nostra rassegna quotidiana delle testate sportive. Rimanete ovviamente collegati con noi per tutti gli approfondimenti e le notizie di giornata nei nostri appuntamenti quotidiani. Questa sera ovviamente il notiziario alle ore 19 in diretta, seguito poi da Viceversa. Intanto vi auguro a tutti una buona giornata insieme. Odinese TV. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS